E si ritorna su Genshin Impact Benvenuti in Kiwi Bella a tutti ragazzi, Shokari Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti Oggi come avete detto dal titolo che poi lo leggete sempre Devo iniziare a cambiare un po' il titolo perché sto spoilerando troppo nel titolo Oggi torniamo a giocare su Genshin Impact ragazzi Vi ricordate l'ultima volta abbiamo lasciato un certo Raptor Non lo so cosa sarà successo, cosa vorrà sto Raptor Non lo so, lo andremo a vedere adesso Ma non prima che vi siete iscritti al canale Attivata la campanella, mettete like, commentate Tutte le cose che dovete fare sempre Quindi ragazzi, aspetto che vi iscrivete qua sotto al canale Attivata la campanella, lo sapete, aspettiamo un po' Bravi, bravo Quindi iniziamo subito a fare questo A vedere cosa vuole sto Raptor Vedere com'è sto gameplay di oggi Allora Allora, vediamo Questo, eravamo rimasti da questa parte qua Eravamo rimasti che Dovemmo andare contro sto Raptor Che chissà cosa vorrà Allora, andiamo a vedere Credo che dobbiamo saltare da sta parte qua Credo Allora, da qua Vai Allora, così Allora, aspettiamo che dovrebbe arrivare una corrente che ci fa volare Esatto Esatto Allora Vediamo da qua Devevo scendere Vediamo scendere Ok, ah, c'è sta tutta la combriccola Che sta? Allora, andiamo a dar più grosso Dar più grosso Ecco, vai Così Vai Ah, tu, già mi sta andata ammazzata Tutti, mortacci Allora, andiamo Vai Da qua, così Ah Vai Dai Ok Sperò anche non ammazzano tutti Colonna energetica li può fuori Li faccio fuori tutti Allora, lui è al big boss Proprio Al big boss Così Così Vai Dai Vai Vai Ah Così No Ecco E sono morto E sono morto Andiamo col Caglieia Caglieia Allora Andiamo con Caglieia Che chi ci fa Caglieia vai Con il ghiaccio Li ammazza tutti Con il ghiaccio Li ammazza Ammazza con il ghiaccio Vai Che sta portando Caglieia Qui vai Qui resta per morire Caglieia Con lo sedato E da Allora Questo è un altro che La schicchiera La schicchiera va ammazza luce La schicchiera Allora Vai Vai E pure al big boss Al big boss Di nuovo Al big boss Qua ci stanno altri due Due Così Vai Così E Oh E damo E namo Vai Vai Congerata Ma Ma Porta Ma schicchiera Te faccio fuori Mi tocca Eh Sono Una Motocca ad Amber Che frecce Che frecce Amber Che frecce Tiè Beccate questa Guardate a lei Guardate E io nel frattempo Te ammazzo Vai Vai Così Così De continuo Vai Se è dato Se è dato Che vuole questa Che palle Vediamo Che vuole Ah Se Beimon Vediamo Vediamo Che palle Scrivete nei commenti Se anche a voi Vi dà fastidio Sta cosa Vedete che esce Tutto in inglese Ragazzi Un naso Porta Non ci sto Accapi Niente Non ci sto Accapi Ah Beh Sì Sono Scusate Scusate Andiamo 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 Vediamo È ripreso Sono ripreso Challenge Completa Buono 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 È uscito pure Il baule È uscito Il baule E ci sta E ci sta Bella 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 Cosa Bella Bella Cosa Ci sta Bella Bella Cosa Ci sta Allora Andiamo Dovrei tornare Nel living In 900 Secondi Da dove si va Da qua Credo Live the main E live the main E live the main Allora Siamo arrivati Qua Che Che cos'è Una foresta Che cos'è Una foresta Una foresta Vediamo Dove andiamo Cosa foresta Ci stanno Che ci sta Qua Dove sono Dove sono Partito prima È qua Credo Credo che qua Dove sono Da dove sono Uscito prima Da sotto Al terreno Sono uscito Vabbè E quindi Raga Credo che Devo andare Verso il puntino Giallo Verso il quadratino Giallo Devo andare Perché devo andare Verso il quadratino Giallo Vediamo Vediamo Allora Questa è tutta Campagna È tutta Campagna Vediamo Che Che ci sta Che ci sta Allora Vediamo Che Che ci sta Questa è una redda Col fuoco Che ci sta La tenda col fuoco Proviamo Apple Apple Proviamo a cucinare Raga Investighiamo Investighi Il poteto Seppiamo Se tutto Topiamo Proviamo A cucinare Vediamo Cosa succede Se cucino E cuciniamo Vediamo Allora Cuciniamo Sta Sta parte Qua Cucca Ma cucina Vediamo Che succede Boh Complete Mi sembra Che devo Da questa parte Gialla Ecco Vedi Perfetto Perfetto Da questa parte Gialla Devo andare Quindi Quindi Huc Al centro Sì Così Poi Un altro Facciamo un altro Andiamo da qua A prova E' salita E' salita E' salito Nel livello Di Di salute E' salita Perché ho cucinato E ho magnato Buono Cuciniamone altri Cuciniamone Vediamo 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 Altro Da cucinare Se cambio Personaggio Salirò Di nuovo Come ha fatto Lui Vediamo Allora Cuciniamo Ingredienti Andiamo Di cucinare Che fa Cucina A posto Questo è uno Proviamole a fare tutte Finchè non Non mi dice Basta Questo è un altro Finchè non mi dice Basta Ragazzi Proviamo a cucinare Tipo la prova Del fuoco La prova Dovrei aver finito Che infatti Non ci sta più niente Vabbè E' salita Niente E' salita Vabbè Torniamo col mio Con il mio Personaggio Principale E' finita Qua la prova Del fuoco E Andiamo avanti Andiamo avanti Verso il castello Andiamo Andiamo verso il castello E Vediamo Questi stanno Tutto fuori Credo Ci sia Credo sia Dentro al castello Perché di solito Non ci sta Non so Sembra Vedete fuori Che sanno ste robe qua Qua c'è sta il fiore Voglio PA il fiore Voglio PA Voglio prendere il fiore Vediamo Che fa Sweet flower Piamo se il fiore E Qua invece Ho visto una cosa strana Prima da qua Chissà Quel totem Chissà Che farà Quel totem Chissà Che farà Quel totem Niente Non fa Niente Niente Non manco Solo attacchi Così Con le spadate Non fa Niente Di niente Vabbè Quindi Vabbè Andiamo Andiamo avanti Perché tanto Non ci sta niente A sto totem Andiamo avanti Vogliamo Allora Devo andare nel castello Devo attraversare Il fiume Devo attraversare il fiume Lo farò A nuoto Perché Perché Non mi va Ad andare Fino Al ponte Non mi va Ad andare Fino Al ponte Quindi L'ottaversare Siamo a nuoto La parte più vicina Senza dover nuotare molto Non lo so Ok Credo che da qui Dovrebbe andare bene Credo Allora Vediamo sto punto Famo di volo Voliamo E vediamo di nuotare Quanto riuscirà a nuotare Secondo voi Gli affarò Gli affarò Gli affarò Gli affarò Dai Dai Nuota Nuota E niente E' affogato Sono morto Diciamo Sono morto E Vabbè Ah Meno male Mi ha lasciato di nuovo Qui al punto Dove sta andando Vabbè Quindi raga Devo andare Devo prendere il ponte Devo prendere E Allora Continuiamo ad andare Da questa parte Prendiamo qualche fungo Prendiamo che possono sempre servire i funghi Qua c'è sta niente Di interessante Andiamo sul ponte Ed entriamo nel castello Allora Entriamo nel castello Vediamo qua Ci sono tutti i piccioni Ci stanno Che volano E Vediamo Cosa succede Insomma Diciamo che la Diciamo che la missione Vediamo cosa succede Allora La missione è già terminata E però qua Ci stanno Ste persone Che Mi parlano Che vogliono Sta gente Oddio Ma che bomba Ragazzi scrivete nei commenti Cosa Cosa servono Sta gente Perché io non ce sto a capire Niente Ce sto a capire Questa qua Paymon Mamma Rory It's Sono squisiti Sono squisiti Non lo so ragazzi Scrivete I have a few Vabbè I have a few Che succede Brows item Boh Qua devo scambiare Qualcosa Le gemme Boh Devo scambiare Una Due gemme Due No Fammo una Scambiamo una gemma E che è successo Boh Non si capisce Vabbè E Vabbè Non lo so Non lo so Ragazzi Non ho capito Vabbè Andiamo avanti Che mi sono stancato Che mi manco Ce sto a capire Niente Che mi stai a dire Quindi Vabbè Andiamo avanti Se squisiti Vabbè Andiamo avanti Ok Andiamo Tatboon Tatboon Marjorie Marjorie Tatboon Allora Doviamo entrare Nel castello Principale Credo Quindi Allora Andiamo di qua Allora Tutte scale Credo Credo C'hanno un sacco De scale Perché devo salire Tutto qua E infatti E infatti Tutte qua Devo salire Allora Saliamo le scale Che non finiscono Mai Se scale La vita è fatta Scale Ma non finiscono Mai Se scale Credo che dovrebbe essere Da questa parte Credo Credo che dovrebbe essere Da qua Andiamo a vedere Ancora Ancora scale Madonna Vabbè Andiamo Andiamo avanti Andiamo Tutte scale Dovrei Dovrei essere Arrivato Credo Credo Vediamo Dovrebbe essere Dovrei essere Arrivato Da ste parti Allora Andiamo a vedere Sì Infatti So So arrivato Ok Allora Andiamo avanti Ancora Ancora a scale Oh Maron Andiamo a scale Andiamo a vedere Che cosa è Credo Allora Vediamo Da qua Non è E da questa parte Devo entrare nella cattedrale Devo entrare Ed entriamo nella cattedrale Allora Vediamo Cosa succede Nella cattedrale Ok Siamo dentro Alla cattedrale Devo seguire La linea dorata La linea dorata Qua ci sta Tutte le suore Ci stanno Che pregano Qua ci sta L'altra sora Che prega Vabbè Qua ci sta Amber Che ci deve dire Qualcosa Allora Vediamo che ci dice Tutti sti costi in inglese Che non ce Capisco niente Ragazzi Scrivete qua sotto Come posso risolvere Sta situa Vabbè Cool Andiamo avanti Andiamo avanti Ok Ok Ci sto a capire niente Oh Ok Sto a paimonio Andi from Ok Che è successo Ah Win Win E ho vinto Vabbè Ottimo Ottimo Buono Buono Allora Che me danno Manco un Manco un Cose uscito Manco un forziere Uscito Ah ecco Vedete Tutte qua All'altro Stanno uscendo Dei cose Vabbè Vabbè Dai Questa è la mappa Di tutta la La situa Diciamo Tutta la Da zona E vabbè Ragazzi Questo intanto Si sta a sgranchi E vabbè Ragazzi Quindi Questo è E vabbè Ragazzi Quindi avete visto Che Quindi la situazione Era questa Che Sto Sto raptor Quindi stavo Con la Combriccola Sua Vabbè Ragazzi Quindi voi Ragazzi Mi raccomando Scrivete Qua sotto Nei commenti Quale A che livello Siete arrivati Sicuramente Sarete arrivati A un livello Più alto Del mio Sicuro Sicuramente E scrivete Qua sotto Cosa serve Quelli che vi ho detto Prima Cosa servono Ste persone Qua nel castello Che non ho capito Bene cos'era Vabbè ragazzi Voi mi raccomando Sempre commentate Se vi piace Se vi piace Sto video Se volete Qualche altro Videogioco Che faccio Di gameplay Scrivetelo nei commenti Quello che viene Votato Viene commentato Di più Lo farò Farò un prossimo Gameplay Di un altro Videogioco Se noi continuiamo Con Genshin Impact O Fortnite Noi invece ragazzi Ci vediamo In un prossimo video E mi raccomando Iscrivetevi al canale E soprattutto Shokari Ciao